A voi tutti ben ritrovati da Giuseppe De Vitis, la massa di aria fredda ha fatto il suo dovere. Si sono abbassate le temperature, clima invernale, clima natalizio e giunta come promesso la neve in molte località del Piemonte, però domenica sarà tutta un'altra musica, ovvero avremo una giornata tranquilla all'insegna del cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso. Quindi una bella giornata, anche ben solleggiata, attenzione però, gelida, gelida al risveglio in alcune località. Facciamo un esempio, innevate come Cuneo, ben innevata, raggiungeremo valori anche attorno ai meno 6, meno 7, meno 8 addirittura gradi centigradi, ma un po' dappertutto avremo valori negativi, parliamo delle minime, poi ovviamente le temperature aumenteranno, solo poco al di sopra dello zero, sempre sul Cuneese, altrove in pianura, valori compresi tra i 4 e i 7 gradi, ovviamente sulla costa temperature anche attorno ai 10-12 gradi centigradi. Questo è lo scenario previsto per la giornata di domenica, dopo la neve, tempo tranquillo ma piuttosto gelido al risveglio. Attenzione al ghiaccio, arrivederci.